Oh, ehm... sigla! I can't do this all on my own, no, I know, I'm no Superman Bentornati su No Mamazzo, bentornati nella rubrica Fumetti e bentornati nella rubrica Bugs Comics Samuel Stern, che dir si voglia che ora comprende sia Samuel Stern che Calia sul mio canale YouTube Benvenuti in questa recensione del numero 40 di Samuel Stern Spiriti sulla pelle di Antonella Liverano Moscoviti alla sceneggiatura e di Francesca Biscotti ai disegni Innanzitutto lasciatemi dire che sono davvero contento che siamo arrivati al numero 40 una bella cifra tonda, tra dieci numeri siamo al 50 insomma, sono felice di aver parlato di Samuel Stern fin dall'inizio e non sento assolutamente il peso del viaggio so che alcuni invece iniziano a sentirlo quindi ci tengo a dirlo che è un'avventura che tuttora mi entusiasma ogni mese il secondo motivo per cui sono molto contento di fare questo video è perché torno a parlare di una storia di Antonella Liverano Moscoviti sceneggiatrice che ho scoperto nel numero 25 di Samuel Stern l'angelo del focolare forse uno dei numeri che a mani basse è stato quello che mi ha toccato maggiormente per gli argomenti trattati per la moltitudine tra l'altro di argomenti trattati che hanno toccato alcune mie corde emotive e da questo numero poi sono andato a conoscere Antonella l'ho intervistata, abbiamo fatto delle live assieme chi segue il mio canale e soprattutto anche gli altri social tra cui Twitch sa che abbiamo anche fatto delle live di argomenti diversi la mia live intollerante dove Antonella è stata più volte ospite quindi sono felice di aver creato questo rapporto che spero di poter definire amicizia con la sceneggiatrice e sono felice di parlare di questo numero 40 con una consapevolezza diversa quindi diciamo sto parlando di un numero che ha scritto una persona che conosco che conosco al di fuori anche del rapporto lettore-sceneggiatore quindi è una premessa anche necessaria che va fatta proprio perché dovete prendere il mio giudizio la mia recensione anche sulla base di questo quindi voglio darvi la massima onestà intellettuale possibile essendo il secondo numero scritto da Antonella nella testata Samuel Stern dopo L'Angelo del Focolare non era necessario assolutamente ma c'è comunque un rimando all'altro numero di Samuel Stern che le ha scritto non è comunque un sequel come abbiamo visto nei mesi scorsi come c'è stato la chiave dell'abisso è a tutti gli effetti un sequel dell'abisso qua non c'è ovviamente una conseguenzialità tra il numero 25 e il numero 40 ci sono comunque dei rimandi, degli acceni, delle strizzate d'occhio che sono anche un po' è giusto che lo sceneggiatore inserisca nel numero per appunto richiamare alla sua opera precedente qua il richiamo più forte al numero 25 è la presenza di Ellie Ellie Barker la sorella di Abigail ovvero le due sorelle che abbiamo visto appunto nell'Angelo del Focolare nel numero 25 che hanno fatto conoscenza nel numero 25 non con Samuel direttamente ma con Penny l'amica di Samuel Penny è scritta sempre bene sempre volentieri da Antonella Liverano Moscoviti e anche in questo numero Penny fa da tramite al fruire della storia e mi piace questa continuità tra autrice e personaggio che porta appunto avanti una costanza nella scrittura nella struttura del personaggio stesso una cosa che non avevo notato e che ho notato sfogliando di nuovo il 25 è che uno dei primi agganci tra Penny e Ellie è stato proprio fare una domanda sui tatuaggi di Penny in queste pagine ed è curioso come appunto in questo numero sia proprio il tatuaggio a sancire l'amicizia tra Ellie e Penny non c'è la presenza di Abigail ma io credo sia una scelta ponderata da parte dell'autrice proprio perché avrebbe portato via troppo alla storia principale la storia principale non parla di Ellie non parla di Penny parla di una nuova protagonista e la presenza di Abigail forse sarebbe stata troppo preponderante troppo forte in questo contesto e quindi è giusto non mostrarcela ciò nonostante non mi dispiacerebbe vedere non dico un sequel del numero 25 però mi piacerebbe vedere di nuovo Abigail insieme a Penny anche se nel numero 40 viene nominata Allison la amica la fidanzata non ricordo di Penny e quindi viene da pensare che ci sia tuttora Allison nella vita di Penny e che quindi Abigail non ne abbia preso il posto come ho detto non è un sequel a tutti gli effetti però ecco c'è anche una certa discontinuità tra le due copertine questa era la prima copertina ad esclusione della Variant 24 di Padre Duncan con il logo colorato diversamente dal classico rosso non c'è una continuità nel numero 40 appunto perché non sono dei sequel come è successo negli altri due negli altri quattro anzi numeri però c'è sempre una fantastica attinenza all'argomento qua vediamo che il fumetto sembrava iniziare ad ammuffirsi perché c'è questa grossa presenza questa muffa all'interno della casa dell'angelo del focolare qua invece vediamo uno sfondo nero e una scritta che chiaramente non è nera e lo so che non è nera è una carta da zucchero forse non saprei se c'è un altro termine più corretto però dà quell'effetto che danno i tatuaggi vecchi sulla pelle quello strano azzurrino inchiostro che mi ha ricordato i vecchi tatuaggi su sfondo nero tra l'altro è adattissimo all'argomento che si va a trattare in questo numero quindi come sempre complimenti anche a Paolo Altibrandi per il lettering come dicevo all'inizio non è Ellie la protagonista di questa storia non è Penny come non lo era nel numero 25 ma ci fa da fruitore ci fa da caronte in questa nuova avventura la protagonista è Leta o Leta non so come cada l'accento secondo me sta meglio Leta però fatemelo sapere che è una ragazza che vediamo sin dalle prime tavole che è visibilmente stanca visibilmente provata da qualcosa che le è successo ma sembra anche visibilmente provata da quello che le sta accadendo durante la storia e c'è anche una spiegazione narrativa per il suo aspetto così trasandato così sciupato più che altro e scopriamo che con lo sfogliare delle prime pagine scopriamo che anche Leta ha un argomento forte che l'ha solcata in passato un argomento che come nel numero 25 l'angelo del focolare viene a a trascendere diciamo la sfera dell'horror fantasy e cadendo terribilmente nella sfera dell'horror reale ovvero si parla di revenge porn si parla di in questo caso l'ex ragazzo di Leta che forse allora era il ragazzo di Leta che ha diffuso delle foto intime delle foto che non andrebbero che non sarebbero dovute essere condivise delle foto che dovrebbero restare nell'intimità di un rapporto di coppia e che vengono diciamo inviate tra due persone proprio per suggellare questa intimità non certo per annullare del tutto l'intimità stessa rendendole di dominio pubblico perché poi si sa nel momento in cui una persona invia una foto a una terza persona che è fuori da questa intimità quella terza persona può inviarla a una quarta una quinta una sesta e tecnicamente questa foto diventa pubblica in un certo senso umiliando la persona che l'ha che l'ha inviata in modo così innocente così intimo così privato rompendo un cerchio di fiducia che porta la persona la prima persona che si fidava del proprio fidanzato in questo caso a dubitare dell'intera umanità a dubitare della fiducia verso il prossimo addirittura a sentirsi tutti gli occhi addosso da parte del prossimo perché tutte le persone che incontra potrebbero potenzialmente averla vista in un ambito che doveva essere solo privato solo intimo anche in questo caso l'autrice usa una una saga diciamo un numero horror fantasy per raccontarci un problema terribilmente reale esattamente come è stato per l'angelo del focolare io posso dirvi personalmente che tra i due numeri non posso che preferire l'angelo del focolare perché chiaramente sono argomenti che mi hanno toccato di più da vicino dal punto di vista emotivo dal punto di vista personale fortunatamente non posso capire cosa prova cosa ha provato cosa sta provando l'eta in queste storie mi ci posso comunque avvicinare con empatia ma chiaramente sono argomenti che mi toccano di meno anche perché nessuno condividerebbe le mie foto cioè voglio dire però nonostante sia un argomento che riesco a capire solo in teoria fortunatamente non dal lato empirico dal lato dal lato pratico riesco a percepire tutta la l'angoscia che l'eta sta provando lo vediamo anche in una scena molto particolare dove samuel deve fare il suo mojo per capire se è posseduto o meno quindi deve toccare fisicamente la ragazza e l'eta viene sbalzata indietro da da un senso di quasi di di schifo non vuole che un uomo la tocchi è una cosa che spesso accade alle persone che sono state violentate e in un certo senso l'eta è stata violentata non in senso fisico ma in senso in senso più ampio la sua immagine è stata lese è stata violentata ma non si può parlare di questo numero parlando di l'eta senza parlare di un'altra figura importante diametralmente opposta se vogliamo a l'eta ma che dà il giusto equilibrio il giusto il giusto ying e yang a questa a questa storia sto parlando del gatto berra no sto scherzando però volevo nominare il fatto che ci fosse berra anche in questo numero sto parlando di mark il tatuatore che è un personaggio che comunque ha un volto bonario bonaccione ma che nasconde dietro una certa rabbia una certa frustrazione nel non riuscire a essere visto ci sono questi due spiriti affini e diametralmente opposti che sono l'eta che è stata vista quando lei non avrebbe voluto essere vista da più persone contrapposta appunto al carattere all'anima di mark che invece vuole che la sua arte venga vista venga vista da tutti lui vuole sfondare lui vuole essere di pubblico lubidri vuole essere di pubblico dominio vuole che quello che crea sia lo renda noto agli occhi di tutti ed è molto frustrato perché non sta accadendo questa cosa lo ha portato ad abbandonare l'arte in senso stretto e lo ha portato all'arte sulla pelle al tatuaggio portandolo di fatto a una spirale di follia che è a tutti gli effetti propria di una possessione cioè vediamo Mark che non è cattivo di indole ma si è creata un'ombra in un certo senso dentro di lui ed è stata fomentata da un viaggio chiamiamolo un viaggio spirituale che lo ha portato a conoscere un maestro nel tatuare un maestro d'arte che gli ha insegnato una tecnica che però lo sta portando alla dannazione in un certo senso questo maestro che non si sa bene se è un eresiarca se è un demone con i suoi tatuaggi crea dei sigilli che rende le sue opere d'arte le sue vittime le persone che ha tatuato le rende assoggettate a lui le rende schiave della sua volontà in un certo senso in Mark addirittura ha trovato una sorta di erede una sorta di di araldo che può portare fuori da legione nuove vittime a lui stesso rendendo Mark un tatuatore pericolosissimo a tutti gli effetti non so se è anche voluta l'idea di strizzare un po' l'occhio alla visione bigotta dei tatuaggi cioè il fatto che i tatuaggi sono il male eccetera eccetera con questo con questo patto demoniaco in un certo senso Mark davvero porta il male con i tatuaggi non so se questa è una strizzata d'occhio volontaria o involontaria a questa visione molto ristretta no? dei tatuaggi versione visione ristretta che viene addirittura dalla Bibbia come ci tiene a ricordarci padre Duncan che però è il primo a discostarsene mostrandoci un ordine monastico un ordine di frati che invece sono soliti essere esperti di tatuaggi tatuarsi vediamo appunto che Samuel parla con un frate in videochiamata che è molto esperto di tatuaggi anche di tatuaggi nell'antichità e che spiega come una volta erano dei veri e propri sigilli dei veri e propri simboli che suggellavano un patto tra la persona tatuata e quello che veniva tatuato scopriamo che è il tatuaggio medesimo a divorare Leta dall'interno tant'è che quando poi viene creato questo esorcismo che risolve un pochino il problema di Leta non tanto quello di Mark vediamo nel finale una Leta davvero davvero bella senza l'occhiaio e la stanchezza che l'ha permeata fin dall'inizio vediamo una persona in un certo senso rinata una persona che in un certo senso riesce non ho capito anche qui se volontariamente o involontariamente a prendersi una certa a prendersi una certa rivincita su quello che le è successo una rivincita che tutti vorremmo vedere dalle persone che compiono il male verso di noi e che non si rendono nemmeno conto di averlo fatto non si rendono nemmeno conto del male che hanno arrecato la punizione che gli è stata data non la comprendono e credono tuttora di essere nel giusto qua vediamo nelle ultime pagine nelle ultime tavole forse la la vendetta la giustizia che tutti spereremmo venga posta a queste persone non voglio lodare totalmente questo numero c'è una piccola critica che voglio fare che però non ha a che fare con la storia di per sé ma con una cosa che mi aspettavo si collegasse al tema dei tatuaggi e che invece non è stata fatta ma ripeto è una è una cosa che io mi ero costruito nella testa e che speravo quando Antonella ancora sul suo profilo Instagram aveva annunciato che la sua storia la sua prossima storia avrebbe parlato di tatuaggi pensavo che si fosse collegata in un altro modo alla mitologia sterniana e invece semplicemente diciamo hanno usato per spiegare il fatto che Mark era in grado di fare quello che faceva hanno usato il discorso delle anime affini le anime affine tra la disperazione di Mark e l'incontro con il maestro e la disperazione di Mark e quella di Leta però io pensavo che c'era una c'era proprio qualcosa di fisico nei tatuaggi nell'inchiostro usato da Mark io pensavo che ci fossero che non ci fosse inchiostro ma che ci fosse quella poltiglia schifosa che era uscita da Abisco questo perché perché nel numero 29 le anime morte scopriamo che quella poltiglia viene venduta anche come come droga lo scopriamo grazie al al diacono che la assorbe dentro di sé che ha all'interno questa poltiglia e io credevo appunto che i tatuaggi maledetti i tatuaggi maledetti da Mark fossero appunto non tanto colpa dell'animo di Mark ma proprio della poltiglia stessa e questo avrebbe aperto altre strade ne abbiamo comunque abbiamo comunque visto molte nuove strade aprirsi con questo numero ma pensavo che venissero aperte in un modo un po' più terra terra diciamo quindi usando fisicamente quello che può essere definito l'ectoplasma demoniaco di abisco di legione per tatuare le persone invece è semplicemente un rapporto tra anime questo chiaramente rende il numero un po' più indipendente un po' meno legato alla trama orizzontale però mi sarebbe piaciuta questa cosa tutto lì vorrei parlare un attimo dei disegni perché non non si può non fare un paragone tra come è stata disegnata Penny da Lisa Salsi e come è stata disegnata Penny da Francesca Biscotti io devo dire che ho un dilemma sono davvero davvero indeciso su quale Penny preferisco perché se da un lato io adoro lo stile di Lisa Salsi adoro i suoi disegni Abigail Ellie e Penny medesima sono tutte e tre bellissime e sono Penny comunque riesce a trasmettere una forza grazie anche a questa sua chioma indomabile che che appunto Ellie e Abigail non hanno d'altro canto nel tratto di Francesca Biscotti c'è questa Penny con dei lineamenti non così dolci un naso magari un po' più pronunciato forse un aspetto un po' più italiano ma non come direbbe Stanisla Rochelle comunque ecco questo look di Penny con dei lineamenti un po' più forti che rappresentano forse meglio il carattere di Penny potrebbero piacermi di più forse io vedrei un bellissimo connubio tra una Penny con il volto le fattezze disegnate da Francesca Biscotti e Ellie e Abigail invece con le fattezze dolci di Lisa Salsi mi piacerebbe vedere come starebbero insieme ecco fatemi sapere voi qual è la Penny che preferite qua sotto nei commenti qual è lo stile di disegno che preferite per Penny grazie ancora per avermi seguito fino alla fine del video io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video ma via questa adesso ciao 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 ciao